Presidente, però il problema è assai del campo, il mediterraneo, l'attenzione dei dirigenti del sindaco, al di là del consiglio che sono un po' di strada, ma insomma... Le spiego, il problema è che, diciamo, segue questa amministrazione. Il Partito Democratico, il giorno dopo che si è, diciamo, disediato questa amministrazione, ha chiesto con atti formati... ...un consiglio comunale che è messa a noi, che è ragionato, 4 partiti di mediterraneo. Il consiglio comunale è stato fatto, il sindaco ha dato con essa, in questo consiglio comunale, che sarebbe stato votato il PUC in tempi veri, sono passati due anni in mezzo, e il PUC non è stato votato all'attenzione del progetto. Quindi, quando il consigliere Polizio chiede, insieme ad altri consiglieri comunali, di conoscere qual è lo stato in cui versa la linea del procedimento amministrativo, che si è aperto e non si è chiuso, che è quello, appunto, dell'attrovazione del PUC, sarebbe stato, ed è il futuro, qualcuno, che ci fosse una relazione da parte di... non solo le tecniche del PUC, ma io dico, anche le tecniche del PUC, anche le tecniche del PUC, anche le tecniche del PUC, che sul PUC ci hanno votato. Perché, bene, il Presidente, la questione è tutta lì, c'è stato un'attività che si è costituita per la realizzazione di questo PUC, che ha scoperto il suo... Ma dove sto porto? Ma ho presentato queste... queste carte. Sono stati fatti... fatte le osservazioni. Quindi, andate a far tutto recluso e completate questo PUC. Ecco qui. Allora, la domanda è... Stato che ha legato... Veda, il consigliere di questione, ha legato questa... convocazione. C'è anche una relazione di ingegnero di... E non so se lei, ma sicuramente lo ha fatto, ha letto. E, come fa così, scaricano delle responsabilità. Anche, sono stati, infine, che aveva realizzato il progetto. Quindi, aveva realizzato il PUC. E quindi, tutto questo sarebbe... Per quello che si capisse se queste responsabilità sono prete, presunte, basurde. Bisogna capire, visto che all'attenzione della conferenza da PUC c'è una richiesta di soffi generale, che è pervenuta da parte dei progettisti, che sarà un debito fuori bilancio. Non è stato potuto portare. Non è stato portato perché l'amministrazione non ha seguito l'iter che si pagano fuori le sentenze, ma sarà identificato. E quindi, le transazioni non si pagano, ma è del fatto che questi progettisti stanno avanzando, si chiede di somma in carico, nell'attività svolta. Ma non completata da questa amministrazione. Quindi, di nuovo, c'è anche una responsabilità. C'è una responsabilità dell'attivazione per non aver terminato il procedimento giusto. Una responsabilità. Una responsabilità. C'è una responsabilità, quindi... E' da pastiglio. Ma poi, va bene, mi sento con sincerità, io, anche per assecondare qualche amico che richiede più poti, che sembrerebbe, perché evidentemente non ha fatto nulla o più, insomma, anche nel conversazione di carico ha fatto un po' E allora, e allora, dobbiamo dire che questo è stato un tema che dovrebbe interessare, insomma, dovrebbe interessare un po' di chi. Questa è stata una canzone, una canzone con il sindaco vicino al cordone per stare posti dagli dirigenti che dovrebbero rientrare ed ascoltare questo luogo, anziché stare in un'unità, anziché stare in un'unità. Insomma, la canzone è un spettacolo che dovrebbe essere un po' di chi parla e per chi dovrebbe ascoltare. Allora, dicendo, la sezione di Google costituisce quella regola, oltre in bucana, ovviamente, in qualche modo, messo una parola conclusiva sull'assetto del telefono. Chiaro? Che andava fin di discussa, bisognava valutare le osservazioni, bisognava richiamare i consumenti che hanno stato incaricati. Tu scusami, sto l'administrazione della Stata. In due anni e mezzo non è stato portato il Consiglio Comunale. In cui si aggiunge un danno di potenza, perché se noi dobbiamo anche pagare dei professionisti per un'attività che, qualunque, non è risultato, produttiva del bene, ma deve avere una negligenza palese della registrazione, è evidente che esiste una difficoltà, diciamo, di chi governa e anche di chi fa la costruzione. Perché noi, quello che chiediamo oggi, è capire qual è lo stato con il quale ci troviamo, lo stato di pazzo, quindi abbiamo la necessità di avere una particolare spiegazione da oggi. Io ho meglio avuto la presenza di tecnici che hanno fatto dell'attività per avere un quadro ancora più completo di questa ricerca. E tutto questo oggi non c'è, quasi come se fossero male essere, come dire, tardivi nell'attivazione di altri e nemmeno di usure progetti. E allora, per dire, tardivi nell'attività di tutti i giorni, non c'è veramente altro, basta, non c'è veramente l'attività. Non c'è anche l'attività di chi è Usuale, ma non c'è nessuna volta, non c'è realmente l'attività di tutti i giorni, non c'è veramente l'attività, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.